La seconda felce di Pizzo Bottino. Benvenuti al terzo episodio con i nostri amici del Club dei Ricercatori. In questo periodo i nostri amici si sono dedicati intensamente alla porzione dei Monti Peloritani situata sotto Pizzo Bottino. Ci troviamo sempre nello stesso torrente dei primi due episodi. Oggi documenteremo il ritrovamento della seconda postazione di Vuduardia Radicans in questa sezione alta del torrente. Era l'8 settembre 2017, eravamo reduci del recente ritrovamento della cascata delle Felci Giganti e della cascata dei Laghetti. Attraverso la visualizzazione satellitare avevamo visto che sopra questi punti c'era qualcosa di interessante. Si intravedeva una cascata molto alta al che abbiamo deciso di a questo punto di completare questo torrente e arrivare fino alla sorgente. Abbiamo partiti con un'utilitaria e abbiamo percorso la dorsale dei Peloritani da Monte di Nammare fino a Pizzo Bottino, Rifugio Bottino, Rifugio Casemaressa e quindi non è stato semplice perché abbiamo bucato, poi ha piovuto durante l'escursione. Vuole dire che è stata una delle escursioni più impegnative, molto impegnative. Però siamo riusciti a portare a casa tutti i risultati previsti, tra cui la cascata questa che si vedeva, tutte le cascate che c'erano man mano nel ballone fino a arrivare alla sorgente e, punto chiave di questo video, la seconda Felce di Pizzo Bottino, chiamata così da noi. Praticamente è una cascata con un grosso agglomerato di felci alla destra di questa cascata ed è sopra la cascata delle felci giganti, quella dell'episodio numero uno. Un'altra cascata sempre risalendo verso le sorgenti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Eccoci, stiamo scendendo e abbiamo trovato un'altra cascata. molto, molto suggestiva. Prima eravamo lì sopra, ora l'abbiamo aggirata, siamo scesi e ora siamo arrivati qui. Una bellezza fantasmagorica, osservate. Guardate che bellissima cascata, strepitosa. Ciao. 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 Autore dei sorrisi